Allarme ambientale a Grottaglie, 150 tonnellate di rifiuti speciali sono stati trovati abbandonati in una discarica abusiva, un'area di 6.000 metri quadri sequestrata dalla Guardia di Finanza. Una scoperta dei militari della tenenza di Martina Franca durante un controllo in contrada bucito nelle campagne grottagliesi. A cielo aperto, senza alcuna tutela o prevenzione, erano stati abbandonati diversi lastroni di Eternit, pneumatici fuori uso, vetro, legno, plastica e materiale di risulta. Di lavorazioni edili, denunciato il proprietario dell'area, la Guardia di Finanza sta operando controlli a tappeto in materia di tutela ambientale in tutta la provincia ionica. Soltanto due giorni fa a Manduria è stato chiuso un oleificio per gli sversamenti di acqua sporca nel terreno e per l'uso, nella lavorazione delle olive, di acqua non potabile. E ancora pochi giorni prima sono state sequestrate due discariche abusive a Torricella. In una, in particolare, i finanzieri hanno trovato abbandonati cinque quintali di lastre di Eternit anamianto. Una vera bomba ecologica, un'ampia attività di controllo dunque, chiusa per ora con quattro discariche sequestrate in meno di una settimana.